Qual è il cambiamento che hai deciso di apportare nel 2023 alla tua vita? Che vuoi, non che devi, devo assolutamente chiudere questa relazione, no, devo, non funziona molto bene con il tuo cervello, è un ordine e gli ordini non ci piacciono. Se vuoi chiudere questa relazione perché è tossica, sto buttando giù degli esempi, pescando anche un po' tra quelli che sono i casi dei miei clienti.